75-76 è senz'altro questo Derby County Slovan-Bratislava all'andata a Bratislava il 17 settembre è finita 1-0 con gol di Masni al 58esimo per lo Slovan qui siamo a Derby il primo di ottobre del 75 il Derby è chiamato a una difficile rimonta in maglia bianca alla formazione inglese che va al tiro con Gemmiel qui la difesa dello Slovan salva sulla linea passiamo al minuto 40 e si sblocca il risultato Gemmiel per Bourne, diagonale, gol 1-0 per la squadra inglese grande esultanza della formazione in maglia bianca ora nel secondo tempo il colpo di testa di George il passaggio di Lee e poi il tiro di McFarland palla alta Hector dà la bandierina per il Derby palla respinta e poi un tiro dovrebbe essere McFarland ma comunque va sul palo poi la difesa respinge la palla in profondità per Lee che si gira al 78esimo e fa gol grande controllo e 2-0 qualificazione in tasca per il Derby il passaggio filtrante di Rioc Gemmiel scozzese infaticabile giocatore del centrocampo si guadagna anche il calcio di rigore per questo fallo netto il tiro di Lee numero 9 Lee questa volta è parato il calcio di rigore è fallito ma il 3-0 è rimandato solo di pochi minuti all'ottantaduesimo c'è un errore della difesa dello Slovan e Lee si inserisce per il gol del 3-0 del Derby sullo Slovan Bratislava e la gara praticamente si conclude qui ultima occasione è un'occasione clamorosa per il giocatore sempre numero 9 del Derby Hector Traversone è lì ma soprattutto qui sulla respinta fallisce un gol fatto 3-0 per il Derby Grazie